La novità più grande è il luogo in cui si disputeranno, la conferma invece, è la voglia di tornare piano piano alla normalità con lo sport in tutta sicurezza. Il CSI Pesor Urbino torna ai blocchi di partenza con i campionati estivi di Calcio 8 e Calcio 5 che per la prima volta saranno ospitati nei campi di Trepponti, un impianto sportivo che è un fiore all'occhiello della città di Fano e che d'ora in avanti viaggerà a braccetto insieme al comitato preseduto da Marco Pagnetti. Il fischio d'inizio sarà il 26 maggio per quanto riguarda il Calcio 5 e il 31 maggio per quanto riguarda il Calcio 8. Faremo la prima tappa qui perché abbiamo in programma di fare anche altre trappe su tutto il territorio provinciale. Per quanto riguarda le norme anti-Covid c'è qualche regola ancora da seguire in particolare? Le regole sono sicuramente prima di tutto il buon senso, l'utilizzo della mascherina anche quando si sta in panchina e soprattutto quando si accede alla struttura, poi mentre si gioca ovviamente non si utilizza la mascherina ma questo è dovuto al fatto che verranno utilizzati i protocolli del centro sportivo italiano che sin dall'inizio pandemia, grazie alla collaborazione con il comitato tecnico scientifico, J Medical e l'Università Cattolica di Roma, abbiamo creato dei protocolli adatti apposta a poter svolgere la propria attività sia in zona gialla che in zona arancione. E potranno essere utilizzati anche gli spogliatoi, ha precisato Pagnetti, perché si tratta di campionati di preminente interesse nazionale. Ad organizzarli insieme al CSI ci sarà la polisportiva Jack & Daniel, la società che gestisce la struttura, dotata di due campi in erba sintetica. Sempre qui dal prossimo settembre si disputeranno anche i campionati storici invernali, CSI, interrotti lo scorso anno a causa del Covid. Quindi all'interno dello spogliatoio si troveranno dei cartelli predisposti per rispettare le distanze e soprattutto all'interno dello spogliatoio non accederanno più di 4 persone alla volta. Come dicevo prima, il buon senso di rispettare i protocolli che il CSI darà a tutte le società sportive che parteciperanno ai nostri campionati, che appunto come dicevamo prima inizieranno a fine mese e quelli successivi nei mesi successivi. E ovviamente di stare sempre attenti, di non cercare gli abbracci, di non cercare i saluti eccetera. Bisogna che in questo momento facciamo uno sport leggermente diverso al solito, ma credo e spero con tutto il cuore che a ottobre si possa ripartire con i campionati come si faceva prima, magari con qualche accorgimento comunque sempre, però si riesca a partire.